E' scattata alle prime luci dell'alba, secondo le più canoniche regole del caso, una fase cruciale dell'operazione lavoro in corso della Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro hanno eseguito perquisizioni e sequestri su provvedimento delle procure di Pesaro e Durbino in uffici e domicili privati e studi professionali per ipotesi di reato ai danni della pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e da imprese renditori ai danni dell'Erap. Al momento sono state denunciate otto persone, tra cui tre dirigenti pubblici dell'ente regionale e abitazione pubblica delle Marche, per abuso d'ufficio, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà di scelta del contraente e induzione a dare o promettere utilità. Con le due procure, quella della procura di Durbino e quella della procura di Pesaro, stiamo lavorando in modo molto vantaggioso, molto produttivo per affrontare tante di queste vicende che inquinano in un certo modo la pubblica amministrazione, la concorrenza tra imprenditori e ovviamente minano la pubblica utilità in generale. Perquisite le abitazioni private dei soggetti indagati, cinque sedi aziendali, uno studio professionale e gli uffici di due dirigenti dell'Erap alla sede di Pesaro in Viale Bramante ed anche un cantiere nel cuore del centro storico, ma anche a Fano, Coglio al Metauro, Serra Sant'Abbondio e Casoria in provincia di Napoli. L'indagine era partita nell'autunno del 2018, prendendo sviluppo da un esposto proprio di un dirigente dello stesso Erap, insospettito da alcune pratiche e da atti pubblici poco chiari, il tutto per tutelare l'immagine dello stesso istituto, segnalando così alle fiamme gialle presunte condotte illecite messe in atto da alcuni suoi colleghi su procedure d'appalto e gestione dei lavori pubblici. Indagini lunghe e articolate per le complesse procedure di gara e la necessità di svolgere anche analisi tecniche, seguendo la progressione e l'avanzamento dei lavori di alcuni cantieri monitorati durante l'indagine. Le indagini hanno messo alla luce così gravi violazioni normative in materia di appalti commesse dai dirigenti dell'Erap, che avevano stretti legami con i titolari delle imprese coinvolte, favorendoli a discapito dell'ente pubblico. Un reatto, quello ai danni della pubblica amministrazione, che ha delle implicazioni non solo giuridiche, ma anche morali, perché tocca gli interessi di tutti i cittadini. Tutti noi abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che funzioni rispettando le regole e senza questi scantolamenti che purtroppo a volte rendono meno la fiducia del cittadino nelle istituzioni in generale.